La mia collaborazione con Licia è nata intorno al 2003, fine 2003. Giacomo Spazio, che era l'art director di Urania, mi aveva contattato per fare un'immagine, per disegnare un'immagine di una spada nera che serviva per una fiera del libro a Francoforte per presentare questa nuova scrittrice. Quindi ho realizzato questa spada e dopo diversi mesi da questo disegno l'art director di Mondadori, Giacomo Callo, mi ha contattato e ho iniziato a lavorare per una dei graphic designer di Mondadori, Nadia Morelli, con cui ho iniziato la collaborazione per le prime copertine di Licia, quindi la prima trilogia che era Cronache del mondo emerso. e da lì in poi la collaborazione è continuata e poi ho fatto tutte le copertine per Licia, compresi i libri illustrati, Creature del mondo emerso e il futuro Guardia del mondo emerso, Guerrieri e Creature. Ma andata al 2020